di sicurezza stradale, importanti lavori in un'arteria costruita male ai tempi, ma importanti lavori di riasfaltatura per renderla più sicura possibile, parlando di quelli del tratto Aurelia Sud che interessa Pisa. Lavori di notte senza sosta in entrata e uscita dalla città, da ieri sera sino al prossimo fine settimana. La Pisamo sta riasfaltando il manto stradale dell'Aurelia Sud di competenza del comune di Pisa nel tratto compreso tra la rotatoria di via Livornese nel quartiere di Portamare e sotto il viadotto nei pressi della rotatoria in via del Gargalone, quella che emette una vasta area commerciale tra l'aeroporto unitare della 46esimo e la zona dei Navicelli, per evitare disagi importanti su un'arteria di collegamento non solo dell'area pisana, ma dalla Versilia alla città di Livorno fino a sabato prossimo dalle 9.30 di sera alle 6 del mattino è stato istituito il restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da semaforo di cantieri e dei movieri. Inoltre per lo stesso motivo la strada sarà asfaltata ogni notte in breve porzioni così da non limitarne il traffico su tutto il tratto interessato. Sempre per quel che riguarda i lavori nel comune di Pisa, il cantiere di via Crispi nel quartiere di Sant'Antonio da ieri è stato spostato in via Bixio dove la strada sarà chiusa al traffico veicolare per permettere lavori di asfaltatura che termineranno entro giovedì prossimo, 15 settembre.